Molte volte in televisione è stato mostrato il famoso esercito di terracotta, quelle trincee, anzi quelle trincee con migliaia di statue a grandezza naturale, finemente rifinite e tutte diverse le une dalle altre, destinate a montare la guardia alla tomba del primo imperatore cinese. È una scoperta recente, avvenuta per caso negli anni 70, da un contadino che scavava un pozzo. Quello che si è capito in seguito è che questo esercito era solo una delle tante cose disposte intorno alla tomba dell'imperatore, una tomba che ancora non è stata aperta e che si pensa contenga veri e propri tesori. È una sepoltura scavata nel cuore di una collina e poi ermeticamente chiusa. È un po' l'equivalente di una grande piramide naturale. La puntata che vedrete ora racconta la storia di questo imperatore della Cina, Shiwandi, una storia davvero straordinaria e che mostra anche lo strenuo tentativo di quest'uomo, davanti al quale tutti dovevano sprostrarsi, inchinarsi, che combatte l'unico nemico invincibile e che non potrà vincere, la morte. Per sopravvivere, Shin combatterà e conquisterà il mondo! Vi trovo in Cina in un luogo molto speciale. Questa collina nasconde un segreto. Qui è nascosto uno dei più grandi tesori dell'archeologia ancora da scoprire. È la tomba, che risale oltre duemila anni fa, del primo imperatore, l'unificatore della Cina, Shiwandi. È una tomba che attende ancora di essere aperta e che contiene forse dei reperti inimmaginabili. Anche qui intorno, qui sotto, ci sono dei tesori nascosti. Solo 30 anni fa si cominciò a scavare in questa zona e venne fuori una delle meraviglie dell'archeologia, il famoso esercito di terracotta di Xi'an. Questi soldati, alti due metri, furono collocati proprio a difesa della tomba dell'imperatore. Finora ne sono stati scoperti circa 8.000. Ma tutta l'area probabilmente è piena di reperti. Questa zona è stata scavata solo in piccola parte. Infatti si tratta di un immenso complesso monumentale che fa da contorno alla grande tomba che è ancora nascosta dentro la collina. Cosa ci sia dentro non si sa. Però in base a antiche testimonianze ritrovate in certi documenti sembra che si tratti di un mausoleo ricchissimo. All'interno vi sarebbe la rappresentazione di un cielo stellato fatto con gemme preziose e intorno al feretro una riproduzione dell'impero cinese con fiumi e laghi di mercurio liquido. Nelle sale attigue si troverebbero i corpi di centinaia di concubine che avrebbero seguito volontariamente il loro imperatore nella tomba. Ma anche i corpi di tantissimi operai rinchiusi loro malgrado all'interno perché non divulgassero i segreti della costruzione. È una storia unica che rivivremo anche con le immagini dello sceneggiato realizzato dal regista Nick Young. La storia di Shi Huang Di. L'hai fatto giustiziare, vero? No, non ancora. E le mie missioni non possono fallire. Bruciate tutto! Non ci sarà mai nessun altro dopo l'imperatore. Io sono il primo imperatore dell'intera Cina, il divino Qin Shi Huang Di. La storia di Shi Huang Di comincia nel 247 avanti Cristo in una Cina spezzettata ancora in tanti regni ma già una grande civiltà. A Roma era l'epoca delle guerre puniche, si costruiva a quel tempo il Colosso di Rodi, la Siracusa viveva Archimede, eccetera. Ma nel resto dell'Europa vivevano ancora i barbari primitivi. Nel palazzo reale di Xi'an un eunuco corre per portare un'importante notizia. Maestà, il re è morto. Lunga vita al re. Il re Yi Ying Zhen ha solo tredici anni e a corte è circondato da squali assetati di potere. Mio adorato figliolo, mi dispiace tanto. Ora dovrei essere forte. Sua madre, la regina, da molto tempo ha un amante, il consigliere del precedente re, Lu Bu Wei. Siamo qui per te. Maestà, sarebbe un onore per me servirvi come primo ministro. Maestà... È ancora presto per parlare di questo. Ma dovresti confermare lo zio Lu Bu Wei come primo ministro, non appena puoi. E' la cosa migliore, credimi. Dormi adesso. Buonanotte. Vi servirò e vi guiderò come un padre. Le cose però non sono mai come appaiono, specialmente in una corte imperiale dove anche le ombre spesso complottano. Per Lu Bu Wei questa è infatti l'occasione perfetta per mettere finalmente le mani sulle regini dello Stato. È il nostro momento per governare. E mi serve soltanto la sua nomina. Lascia fare a me. Buonanotte. Le nazioni come il Qin vivevano da sempre sotto un ordinamento feudale governate da uomini simili a Lu Bu Wei. Ma c'era una rivoluzione in arrivo che avrebbe posto fine a tutto questo. prima nello Stato di Qin e poi nell'intera Cina. La rivoluzione sarà guidata da un giovane studioso di nome Li Su. Pochi mesi dopo l'incoronazione di Ying Zhen, Li Su arriva al Palazzo Reale in cerca di lavoro. Li Su è un personaggio molto particolare. È un uomo ambizioso che non si ferma davanti a niente. Ha elaborato delle sue idee personali sulla conduzione dello Stato e riesce a entrare nelle grazie e del giovane sovrano. Attraverso lui riuscirà pian piano a plasmare il futuro della Cina. Saremo lo Stato più potente di tutte le terre. Se impariamo a sfruttare la nostra forza e i punti deboli dei nemici. Qui, sicuramente, col potere che vostra maestà ha a disposizione potranno essere spazzati via e l'intero mondo potrà essere unito sotto un unico governo. Quest'occasione, maestà, capita una sola volta ogni diecimila anni. Anche se il destino raramente crea un uomo che sia all'altezza di sfruttare l'occasione. Ma credo che voi possiate essere il grande governatore, maestà. È il momento. È ora. Il giovane imperatore è influenzato profondamente dalle idee e dagli orizzonti di gloria che gli lascia intravedere lì su. sente che il suo destino non è di rimanere chiuso nel suo palazzo a ricevere gli inchini dei cortigiani ma di uscire fuori nel mondo a cavallo con una spada alla conquista di nuove terre da riunire in un immenso impero. Passano dieci anni e il ragazzo timido è diventato ora un adulto deciso e combattivo. Un decennio dopo l'ascesa al trono re Ying Zhen combatte per la sopravvivenza del suo stato e per realizzare un sogno creare una nazione la Cina. Molti altri grandi re prima di lui ci hanno provato e hanno fallito. Ma questa volta è diverso perché Ying Zhen è diverso. È il più giovane re ad aver mai condotto la propria nazione in guerra. È un guerriero forte un comandante ambizioso e motivato da una consapevolezza precisa se c'è un uomo che può unificare la Cina è lui. Per sopravvivere Qin combatterà e conquisterà il mondo! Ying Zhen era determinato a creare l'impero col sangue la crudeltà e la forza del suo esercito. Quell'esercito dopo 2000 anni non è scomparso è ancora qui immortalato nella terracotta con i suoi fanti i suoi arcieri i suoi cavalieri è come un fotogramma del passato con questi 8000 soldati raffigurati esattamente come erano all'epoca anzi la disposizione in cui si trovano ci permette di avere un'idea di come era allora la formazione di un esercito in battaglia. La prima linea era formata da tre file di balestrieri gli artiglieri dell'epoca le balestre venivano utilizzate per evitare il corpo a corpo e potevano scagliare frecce oltre i 200 metri. subito dietro seguivano i cavalli con i carri le macchine mobili con ufficiali e comandanti a bordo e l'affanteria a piedi in fila per quattro. Ai lati dei carri venivano posizionate truppe con lance lunghe fino a 6 metri per impedire che venisse tagliata la testa ai cavalli. Questa armata pietrificata è rimasta sepolta qui in trincea per oltre 2000 anni e nessuno sospettava che poco sotto la terra dove si coltivavano i legumi dove cresceva il pieno ci fosse un intero esercito in armi fin quando nel 1974 un contadino scavando per costruire un pozzo fece questa clamorosa scoperta. quel contadino eccolo qui. Buongiorno piacere. Allora ci vuole raccontare come sono andate le cose quella mattina. Negli anni 70 in un periodo di siccità la nostra squadra aveva deciso di scavare un pozzo. Il terzo giorno mentre stavamo finendo il turno di lavoro la mia zappa ha urtato contro qualcosa. un collo grande così era il collo di un guerriero di terracotta allora ho chiamato i miei compagni di lavoro venite a vedere qui c'è una cosa strana insieme abbiamo continuato a scavare e pian piano sono venute fuori prima le spalle e poi il petto era la statua di un guerriero antico una statua molto pesante con grande sforzo l'abbiamo dissotterrata completamente e allora cosa ha fatto? Abbiamo portato tutto al villaggio gli anziani ci hanno detto che non avremmo dovuto portare via di là quelle cose perché sarebbe stato di cattivo auspicio avevamo rotto un equilibrio e ciò avrebbe portato sfortuna allora io ho caricato su tre carretti tutto quello che avevamo trovato e l'ho portato alla stazione di recupero poiché erano cose di proprietà dello Stato ho chiesto loro vi possono servire sono utili e loro mi hanno detto certo che lo sono ma l'hanno ricompensata per questa scoperta? mi hanno dato 10 yuan a carretto e mi hanno fatto una ricevuta per 30 renninvi sono tornato indietro e ho dato la ricevuta alla squadra di produzione in cambio mi hanno assegnato 5 punti di lavoro equivalenti a 50 centesimi e poi sono venuti gli archeologi dopo qualche giorno sono venuti i capi e ci hanno detto che non bisognava più scavare è arrivato anche l'esercito e la guardia civile e hanno circondato tutto il perimetro poi sono arrivati gli archeologi dove è avvenuto esattamente il ritrovamento? in quel punto è in quel punto che ho trovato una statua la statua che ho trovato ora si trova nel museo di Xian ogni statua è un pezzo unico non esistono due soldati uguali ognuna è stata modellata separatamente riproducendo con estrema precisione la divisa gli accessori e il volto queste statue sono alte tra un metro e ottanta e due metri e pesano fino a 200 chili l'una da 30 anni è in corso un lavoro immenso di restauro un lavoro che impegnerà probabilmente ancora diverse generazioni anche perché si scoprono sempre nuovi reperti ed è un lavoro da certosini perché è stato necessario rimettere insieme infiniti pezzi sparsi a volte anche 200 pezzi per ricostruire un singolo soldato solo in rari casi le mani erano intatte così pure le teste finora sono state ricostruite e restaurate circa mille statue gli altri soldati feriti e mutilati per così dire aspettano il loro turno e non si sa quanti ancora ce ne siano sotto terra com'era qui la situazione prima che avvenisse la distruzione originariamente queste fosse erano delle vere e proprie costruzioni sotterranee tra una e l'altra esistevano dei muri divisori in terra battuta che lei vede ancora erano dei corridoi costruiti per ospitare le statue di terracotta tutto quello che lei vede era ricoperto da un soffitto costruito in travi di legno e il tutto era poi ricoperto da uno spesso strato di terra in seguito ai saccheggi questa struttura è stata incendiata e in seguito è crollata la cosa interessante è che qui proprio sotto i nostri piedi ci sono altri soldati ancora da scoprire vero? sì ma come lei ben sa gli scavi possono creare danni enormi ai ritrovamenti in particolare quando si tratta di reperti in terracotta per questo noi lasciamo intatti molti siti e non procediamo agli scavi per preservare queste opere dal degrado lasciando così alle generazioni future questo compito quando esse disporranno di tecniche più avanzate nell'area che lei vede qui intorno per il momento non scaviamo più ma in passato non c'è stato mai qualche tentativo di penetrare all'interno della tomba dell'imperatore così come è avvenuto per le piramidi egizie le fonti storiche riferiscono effettivamente di tentativi di profanazione della tomba dell'imperatore avvenuti nell'antichità però dalle esplorazioni archeologiche e dalle nostre indagini non risulta in realtà che nessuno sia riuscito a entrare nella tomba dell'imperatore quindi riteniamo che ad oggi il mausoleo della collina non abbia subito alcuna violazione le cose sono invece andate in modo molto diverso per l'esercito di terracotta che come abbiamo sentito è stato ridotto in pezzi dai saccheggiatori gli archeologi oggi scavando nelle trincee hanno trovato non soltanto cocci ma anche qualcos'altro di prezioso quando si osservano i soldati dell'esercito di terracotta e qui ne abbiamo un gruppo molto più molto bello un cavaliere un balestriere un arciere un fante e un alto graduato forse un generale beh si rimane rapiti dalla loro bellezza ma passa in secondo piano un dettaglio fondamentale non hanno le armi insomma si tratta di un esercito disarmato che fine hanno fatto queste armi che si sa erano micidiali beh come è noto queste armi sono sparite sono state portate via dai saccheggi dell'antichità ma le armi sono solo un esempio di quanto fossero abili i cinesi nel lavorare il bronzo in effetti conoscevano praticamente tutti i segreti o quasi della sua lavorazione ed erano in grado di realizzare non solamente delle armi ma anche soprattutto dei capolavori artistici di una raffinatezza assoluta come questi che vedete qui esposti in una mostra allestita nelle scuderie del Quirinale una mostra sui capolavori della Cina sono oggetti di epoche diverse ma che ci testimoniano l'altissimo livello delle conoscenze di lavorazione raggiunto dai bronzisti cinesi come questo ariete in bronzo dorato a quasi 2200 anni e il dorso ruotava capovolgendosi e si trasformava in una lampada d'olio oppure questo brucia profumi in bronzo finemente decorato e sormontato da un uccello con le ali dispiegate questo secchiello conteneva sostanze alcoliche derivate da cereali fermentati e veniva usato come uno strumento liturgico durante le cerimonie questi strani oggetti che vedete sono delle campane campane di bronzo hanno tanti spuntoni protuberanze e colpendone in punti diversi si ottenevano suoni diversi ma forse l'oggetto di bronzo più sorprendente e anche più elegante è questo animale fantastico immaginario metà volatile e metà cervo e sapete a cosa serviva? era un supporto per un tamburo è alto un metro e mezzo e una volta era totalmente ricoperto da intarsi di pietre preziose e anche di oro le conoscenze nella lavorazione del bronzo permettevano non solamente di realizzare degli oggetti estremamente raffinati e bellissimi come abbiamo visto ma anche oggetti in serie e quando si trattava di armi erano degli oggetti davvero micidiali gli armaioli dell'imperatore Qin erano infatti in grado di mantenere la stessa qualità nel lavoro a catena di montaggio e le forme erano così perfette che i prodotti in serie non differivano neppure di un millimetro così realizzarono decine di migliaia di punte di frecce e di meccanismi di scatto di balestre ancora oggi è facile immaginare l'effetto devastante che avevano queste armi è con queste armi e con questi soldati che il giovane re parte per le sue battaglie il progetto è grandioso quello di conquistare tutti i vari regni in cui è divisa la Cina e riunificarli sotto un solo dominio creando per la prima volta un impero il suo impero spinto dal suo consigliere Li Su comincia presto la sua lunga campagna di conquiste la strategia è quella di mangiare uno alla volta tutti gli altri regni bene avete vinto durante la campagna contro lo stato di Zhao l'esercito di Qin fa più di 10.000 prigionieri le regole in guerra sono chiare bisogna prendersi cura dei prigionieri oggi avete vinto e questo è vostro il re non può permettersi di rallentare la sua campagna volete sapere cosa farne? così 10.000 prigionieri vengono giustiziati l'imperatore rinfodera solo momentaneamente la spada una spada che provocherà immensi massacri c'è solo un modo per affrontare la debolezza imparare a sfruttarla oltre 400.000 persone saranno vittime di queste mattanze che coinvolgeranno non soltanto i soldati in armi ma anche la popolazione civile è stato calcolato che oltre 2 milioni di persone abbiano perso la vita nelle guerre per la conquista dell'imperio nessuno riesce più a fermare il giovane sovrano e i suoi nemici a questo punto si moltiplicano all'esterno e all'interno persino certi cortigiani tramano nell'ombra per opporsi al potere assoluto che ha acquisito la regina ha un nuovo favorito il marchese Laoai a corte è risaputo che Laoai è un eunuco e appare strano che la regina con un passato ricco di grandi amanti abbia scelto proprio lui ma in realtà Laoai non è un eunuco lui e la regina hanno due figli che allevano di nascosto e Laoai intende far salire al trono uno di loro ma a corte può permettersi l'attesa orecchie orecchie indiscere orecchie indiscrete dappertutto il sovrano viene informato dei sospetti di una possibile trama della regina e del suo amante segreto le cose a questo punto precipitano il marchese Laoai finto eunuco e vero padre dei due figli della regina si rende conto che sta correndo un grosso rischio e decide di giocare il tutto per tutto aprite Laoai commette un errore aprite rendendosi conto che prima o poi verrà scoperto sottrae alcuni sigili reali che gli danno l'autorità di mobilitare le truppe le forze armate dei distretti sotto il comando di Laoai si appostano intorno al palazzo reale il marchese ha in mente di sorprendere il re in un'ora in cui la sorveglianza abbia abbassato la guardia e impossessarsi del trono le forze di Laoai non incontrano resistenza mentre si avvicinano al palazzo e quando ciò accade è troppo tardi per ritirarsi cadono dritte nella trappola la guardia è troppo tardi la guardia è troppo tardi la guardia è troppo tardi Le forze armate nemiche vengono così annientate e l'Ao Ai viene fatto prigioniero. La vendetta del sovrano è terribile, vuole fare pulizia di tutto e di tutti. Il primo a pagare naturalmente sarà il marchese traditore, ma non sarà il solo. La vendetta del sovrano è terribile, vuole fare pulizia di tutto e di tutti. Non sono la prima regina ad avere un amante. Tu hai fatto molto di più, ma... L'esecuzione di L'Ao Ai è destinata a lanciare un messaggio molto chiaro. Un messaggio che presto sarà rinforzato dall'uccisione di tutti i membri della famiglia. A cominciare dal più pericoloso. Vuoi giocare? Sì, giochiamo. E i bambini? Temevo che li vedessi come una minaccia. Non lo sono. Non più. Tirate da quella parte! E voi da quello! Preparatevi! Preparatevi! Il cavallo! Preparatevi! 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 sa che deve difendersi ormai non solo sul campo di battaglia ma anche in casa sua proprio per questo ordina che nessuno possa essere armato all'interno del palazzo e che lui solo può dare ordine alle guardie di intervenire la macchina da guerra dell'imperatore continua a avanzare implacabile creando il panico lo stato di Ien sta per essere attaccato e i suoi abitanti sanno di non poter resistere allora inviano qui a corte una rappresentanza diplomatica per tentare di fermare l'avanzata in realtà è un modo per riuscire a eludere lo sbarramento delle guardie avvicinatevi grazie a tutti guardie reali! guardie reali! fermate l'assassino! fermatelo! fermate l'assassino! guardie reali! guardie! presto! presto! nessuno più a corte è armato eccetto lui e nessuno a parte lui può radunare le truppe guardie reali! guardie reali! guardia! 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 guardia guardia! guardia guardia! guardia 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 Il nuovo sistema di sicurezza di Ying Zhen non è infallibile Il grande conquistatore, l'invincibile re si è trovato a pochi passi dalla morte e ne è consapevole Le campagne militari intanto continuano folgoranti e già 4 stati su 6 hanno capitolato e lo stato di Yen ha pagato duramente il suo attentato contro il futuro imperatore però per la prima volta il giovane sovrano si trova di fronte a una resistenza mai incontrata prima perché lo stato di Chu ha mobilitato addirittura mezzo milione di uomini per fermare la sua avanzata L'esercito di Chu ha già respinto una prima invasione ed è preparato a farlo di nuovo Mezzo milione di soldati Chu minaccia di porre fine al sogno di Ying Zhen Nel disperato tentativo di sconfiggerli l'imperatore impegna tutte le risorse che ha a disposizione Nuovi equipaggiamenti armi migliori e un altro mezzo milione di soldati 223 a.C. L'esercito Qin appare deciso ad assediare il regno di Chu Questo induce i generali Chu a riconsiderare le posizioni delle truppe più avanzate Decidono di ritirarsi su linee più difendibili Ordine di ritirarsi dietro le colline Ora l'esercito Qin finge di accamparsi In realtà è pronto ad agire L'esercito Qin L'ultimo grande ostacolo al sogno imperiale di Ying Zhen viene abbattuto L'unico stato rimasto indipendente, il regno di Qi, soccombe senza lottare Prima della fine del 221 a.C. il sogno di Ying Zhen si concretizza Il regno di Qin diventa la Cina La sua Cina Le guerre sono finite e il sovrano pensa ora a costruire la sua gloria anche attraverso monumenti che ricordino per sempre la sua opera e il suo regno La capitale deve ormai trasformarsi in una città all'altezza di questa grande ère Oggi non ne rimane più traccia ma certi modellini ritrovati nelle tombe lasciano supporre come avrebbe potuto essere l'aspetto degli edifici che ornavano l'antica Xi'an Una testimonianza della grande abilità degli architetti e degli artigiani dell'antica Cina la si ha visitando oggi il Tempio della Misericordia che si trova in una località fuori dai grandi percorsi turistici a nord di Pechino Questa è la costruzione più antica e meglio conservata che proviene dal passato Ha più di mille anni e si è miracolosamente salvata da terremoti, incendi, devastazioni e guerre La cosa che colpisce è che è stata costruita senza utilizzare ferro, mattoni o chiodi ma unicamente grazie a un gioco d'incastro di legni E lo si vede bene qui nelle travature che sostengono il tetto La grande statua alta 18 metri da secoli continua a impregnarsi dei fumi, delle candele e degli incensi che ancora oggi i devoti accendono ai suoi piedi Questo Tempio di oltre mille anni fa ci lascia intuire qual era la raffinatezza degli artigiani e degli artisti dell'antica Cina e molti si chiedono se la tomba dell'imperatore non nasconda altri tesori ancora da scoprire Quanto ancora c'è da scoprire sottoterra oltre all'esercito di terracotta? Beh, molto, moltissimo In effetti alcuni ritrovamenti hanno fatto capire che l'esercito di terracotta non è la sola meraviglia sepolta ce ne sono tante altre come quelle che vediamo qui esposte in questa bellissima mostra sulla Cina alle scuderie del Quirinale Guardate, questa per esempio è una musicista aveva uno strumento, forse uno strumento affiato vicino al viso che essendo di legno è scomparso indossa una tunica lunga che stringe i fianchi mettendo in risalto un corpo esile slanciato i capelli raccolti dietro la nuca cioè in perfetta sintonia con il canone di bellezza loro in voga nel periodo Han Non era la sola, altri musicisti sono stati rinvenuti proprio risalenti all'epoca dell'imperatore C anzi, un po' come se questo imperatore avesse voluto circondarsi di una sua corte virtuale che stesse vicino a lui anche dopo la morte in questo senso c'erano anche dei funzionari e degli eruditi riconoscibili da un speciale attrezzo, un raschietto raffigurato sulla cintura che serviva per correggere gli errori di scrittura sulle tavolette di legno queste statue sono state riportate alla luce solo di recente in una fossa situata all'incirca mezzo chilometro dal grande tumulo nell'angolo destro infatti hanno notato un corridoio e dentro gli architetti dell'imperatore avevano ricreato un intero paesaggio fluviale ed ecco una di quelle straordinarie gru di bronzo è stata ritratta nell'atto di catturare un pesce e sembra reale, anzi sembra quasi che sia stata pietrificata in quest'atto in tutto pensate sono stati ritrovati più di 40 volatili di bronzo alcuni ritratti mentre dormivano, altri mentre nuotavano eccetera e tutti erano messi in fila lungo questo ruscello sotterraneo questo sì era vero queste sculture di bronzo sono davvero delle meraviglie ma rimangono molti punti oscuri sul modo col quale le hanno realizzate a tal punto che alcuni restauratori del museo centrale di Magonsa in Germania si sono recati direttamente in Cina sul posto per rimuovere le tracce di corrosione e scoprire alcuni segreti della loro antica lavorazione una lavorazione avvenuta pensate più di 2000 anni fa anche per quanto riguarda l'esercito di terracotta le sorprese non sono finite in effetti gli esperti, gli archeologi hanno individuato non meno di 160 altre fosse da dover scavare tutte comprese in un'area di poco più di 2 km quadrati e forse riemergeranno dei capolavori come questo splendido carro da battaglia una quadriga con i suoi occupanti naturalmente tutte le parti di legno sono scomparse ma è rimasta intatta l'attenzione della origa dei due soldati a bordo e degli animali pronti a scattare all'attacco esattamente come facevano 20 secoli fa quindi c'è forse ancora molto da attendersi da questi scavi magari con nuovi corpi d'armata sotterranei intanto c'è una curiosità non lontano dagli scavi qui a Xi'an stanno emergendo altri soldati non dal sottosuolo ma dai forni di questa fabbrica che sta costruendo copie delle statue a tutto spiano sono copie destinate a partire per le più diverse destinazioni il fascino dell'esercito di terracotta ha colpito un po' tutti nel mondo e le richieste sono tantissime per avere in casa un fante, un arciere o un balestriere dentro questi locali degli artigiani del posto producono in continuazione intere armate di tutte le dimensioni l'argilla è la stessa viene lavorata con dei calchi e poi rifinita a mano come quelle originali anche queste statue sono montate in quattro pezzi i forni sono ancora molto semplici e funzionano a carbone la temperatura viene portata fino a quasi a mille gradi e la cottura dura cinque giorni la tecnica probabilmente non è molto diversa da quella che veniva usata in passato per realizzare una grande statua dall'inizio alla fine della lavorazione occorrono due settimane ma la produzione in serie consente di realizzarne un notevole numero specialmente di quelle piccole il colore preferito è quello scuro per le statue piccole e il color terra invece per quelle grandi a proposito di colore va detto che in origine queste statue erano tutte colorate e in base agli studi fatti si è riusciti anche a capire qual era la policromia ecco più o meno come dovevano apparire in origine queste statue vengono spedite in America, in Europa, in Australia ma anche in molte parti della Cina il costo di un generale alto quasi due metri è di 600 euro più 120 per la spedizione l'imperatore non avrebbe mai pensato che l'armata che aveva messo a difesa della sua tomba un giorno si sarebbe moltiplicata e sarebbe partita verso altri paesi lontani per un nuovo tipo di conquista quella dei mercati dei souvenir ma c'è un'altra scoperta enigmatica che esce dagli scavi quella di centinaia di armature vuote in pietra sono state ritrovate in pezzi vicino alla collina dove si trova ancora nascosta la tomba dell'imperatore si pensa che ve ne siano tantissime di queste armature vuote forse addirittura decine di migliaia qual è il loro significato? secondo certi esperti si tratterebbe di un'offerta votiva per le anime di soldati rimasti uccisi in battaglia e senza sepoltura che potrebbero vendicarsi e che invece in questo modo possono ritrovare idealmente il luogo della loro pace eterna l'imperatore ormai ha raggiunto tutti i suoi obiettivi militari e politici ed è diventato onnipotente e vuole che anche gli abitanti delle terre che ha sottomesso lo vedano come un essere quasi sovrannaturale una specie di semidio perciò deve assumere un titolo capace di evocare queste sue nuove qualità un titolo che deve essere scelto con molta cura all'età di 38 anni ying jen viene incoronato con il velo delle stelle simbolo della divinità del primo imperatore della Cina i ministri sono pronti a suggerire un titolo che meglio si addica al più grande sovrano nella storia della Cina vostra maestà noi ministri abbiamo riflettuto per molte settimane e abbiamo raccolto alcuni titoli di personalità del passato adatti alla vostra magnificenza titoli come il celeste sovrano il sovrano delle terre e il grande sono o no il primo grande divino imperatore l'autorità suprema dell'intera Cina unita chiamò se stesso Qin Shi Huangdi che tradotto letteralmente significa primo augusto cioè divino imperatore della dinastia Qin e mio figlio sarà il secondo divino imperatore e suo figlio il terzo e così via per diecimila generazioni a venire dietro l'imperatore c'è sempre il grande suggeritore lì su che ormai è la nuova potenza dietro il trono ha messo a punto un programma politico per distruggere il passato feudale della Cina i ministri pensano ancora di nominare a capo dei feudi dei parenti della famiglia imperiale ma per loro e per i parenti dell'imperatore c'è una brutta sorpresa a capo dei feudi ci saranno d'orinanzi soltanto dei funzionari fedeli illustre divino e supremo imperatore il vecchio feudalesimo è indebolito raccomandiamo quindi che i nuovi signori feudatari siano nominati tra i giovani della famiglia imperiale i ministri danno per scontato che il sistema feudale continui dopo l'unificazione che poteri e privilegi sottratti ai nemici dell'imperatore appartengano ora alla famiglia imperiale attendiamo il consenso della vostra maestà ma ricevono una brutta sorpresa Li Su solo a Li Su è ben chiaro il nuovo indirizzo politico perché è lui che l'ha ideato è un'idea folle abbiamo combattuto incessanti guerre per lunghi secoli a causa dei feudatari e adesso che li abbiamo eliminati volete crearne di nuovi ma questi sarebbero membri della famiglia imperiale esatto l'unica forza che in migliaia di anni è riuscita a creare la pace è il potere divino dell'imperatore per mantenere la pace questa forza non deve essere corrotta dai legami familiari le decisioni non stanno a voi ma all'imperatore e ogni suo ordine divino deve essere eseguito nel modo più efficace con la maggiore efficienza possibile e gli esecutori non avranno nessun altro interesse che soddisfare il divino desiderio dell'imperatore altrimenti ci sarà di nuovo il caos e torneranno le guerre e questo di certo non lo vogliamo eccellente ha ragione il ministro della giustizia ha ragione nominerò personalmente sei governatori per ognuna delle sei regioni dell'impero 36 in tutto che ovviamente è sei volte il numero degli stati da me conquistati ah ve l'ho mai detto sei è il mio numero preferito è una vera rivoluzione perché si passa da un sistema feudale governato dai nobili dall'aristocrazia a un sistema centralizzato dove tutto è sotto gli ordini diretti del sovrano ordini che arrivano capillarmente ovunque su un territorio vastissimo professore Sant'Angelo buonasera allora lei è un profondo conoscitore della Cina è uno storico quello che sta avvenendo in questa ha delle radici su fatti profondi ma soprattutto anche su un fatto tecnologico cioè l'invenzione del ferro e le sue conseguenze in agricoltura e non solo perché? certo il passaggio dal bronzo al ferro porta una nuova tecnologia in agricoltura innanzitutto con l'invenzione dell'aratro a trazione animale che aumenta la produttività nei campi e questo cosa porta? e questo porta delle trasformazioni sociali si pensi all'aumento dei proprietari terrieri e del nuovo assetto del lavoro nelle campagne quindi i nobili perdono il loro ruolo e perdono il loro ruolo il ruolo loro diminuisce anche nell'esercito perché l'invenzione di nuove armi in modo particolare la spada aveva ridimensionato il ruolo della cavalleria che era invece il nerbo dell'esercito e che rappresentava il ruolo importante dell'aristocrazia in campo militare quindi è una società che cambia cambia rapidamente i ruoli non sono più quelli di un tempo e occorre forse un nuovo pensiero politico e questo che poi succede sotto il regno di Xi Jinping sì esatto perché la ricerca di un nuovo ordine di una risistemazione della società aveva creato una numerosa scuola di pensiero le famose cento scuole e fra queste quella legalista si era affermata nello stato di Qin dove l'IS aveva attuato una serie di riforme e aveva anche indirizzato il nuovo sovrano verso questa nuova strada quindi questo primo ministro lo suggeritore perché lui è ancora l'uomo diciamo dietro le quinte esatto che riesce a influenzare prima l'abbiamo visto sin da giovane questo imperatore e poi ha questo ruolo per cui si afferma questa scuola legalista che a che cosa porta intanto la rottura col passato mi sembra certo il ridimensionamento dell'aristocrazia e la creazione di un codice di leggi scritte che valgono per tutti gli stati della società cioè una specie di costituzione nuova per così dire sì esatto che quindi ridimensioni il ruolo degli aristocratici e che si basi sul principio che esistono delle norme che se seguite portano dei premi se invece infrate portano delle punizioni anche severissime uguale per tutti una legge che non distingue più tra chi è esente e chi no ma che si estende l'uomo forte con un potere forte e una legge molto forte e questa è la nuova Cina che cerca ora di riunificarsi non solo militarmente e politicamente ma anche in tanti campi e vediamo come i sette stati un tempo indipendenti sono riuniti in un'unica nazione la Cina con circa 59 milioni di abitanti la nuova struttura amministrativa dà al paese un'impronta unitaria che rimarrà per sempre fino ai giorni nostri oggi dopo vari spostamenti la capitale si trova a Pechino e ogni giorno migliaia di cinesi vengono a visitare quella che è stata per oltre mezzo millennio una grande reggia per gli imperatori fino all'ultimo imperatore infatti qui fino agli inizi degli anni 20 risiedeva l'ultimo sovrano della Cina l'ultimo figlio del cielo la struttura di questa reggia la cosiddetta città proibita attraverso i secoli ha continuato a esprimere quel concetto di sacralità dovuto alla persona dell'imperatore che risiedeva qui al centro di una serie di mura e di cortili disposti uno dentro l'altro una posizione di centralità ma anche un modo per difendere l'imperatore da qualsiasi offesa esterna c'è una cosa che colpisce in questa città proibita ed è la grandiosità degli spazi aperti e anche il fatto che i palazzi non sono troppo alti e c'è una ragione è un segno di rispetto per gli spiriti benigni che volavano bassi e che quindi era bene che non incontrassero ostacoli questa città è grandissima comprende addirittura 8700 stanze e vi abitavano oltre ai familiari dell'imperatore soldati funzionari concubine e 3000 eunichi una volta realizzata l'unificazione e riportata alla pace l'imperatore si trova però di fronte a un grande ostacolo la scrittura è diversa nei vari regni mette allora all'opera i suoi esperti e come un editto impone l'unificazione dei caratteri nasce così una scrittura che manterrà sostanzialmente le sue caratteristiche attraverso i secoli pur trasformandosi nel corso delle generazioni e nasce anche l'amore per la calligrafia intesa ancora oggi come un'importante espressione culturale con delle scuole in cui ci si perfeziona in quella che viene considerata una vera e propria arte il palazzo imperiale ormai non è più soltanto la residenza di un sovrano ma è anche il centro di un potere assoluto un potere conquistato con le armi e presidiato da un esercito invincibile ma è anche la sorgente di un pensiero unico di una filosofia totalitaria cui tutti debbono uniformarsi certi antichi testi ritrovati nella tomba di un funzionario di giustizia mostrano quale fosse il clima poliziesco del tempo le punizioni erano severissime per chi si rendeva colpevole di gesti o parole contrarie alla linea del governo mutilazioni e tatuaggi indelebili in faccia se poi qualcuno si azzardava ad esaltare il valore dei soldati nemici correva il rischio addirittura di venire decapitato il cosiddetto legalismo inventato dall'issù intendeva diventare la base dell'educazione morale del popolo e poiché la filosofia di confucio affermava che un re deve persuadere attraverso la saggezza e non attraverso la forza o la coercizione vennero date alle fiamme tutte le opere di confucio così vengono date alle fiamme le opere di altre scuole filosofiche molte delle cosiddette cento scuole considerate un retaggio del passato il passato doveva essere cancellato per non interferire con il nuovo pensiero unico anche le cosiddette teste pensanti cioè gli intellettuali erano sorvegliati e se sgarravano finivano male 460 di loro furono giustiziati perché non in linea con il nuovo corso forse non fu l'imperatore a dare l'ordine ma zelanti giudici e uomini di corte chi criticava apertamente nel popolo finiva impiccato a un certo punto non solo confucio viene dato alle fiamme ma si incendiano intere biblioteche di testi scritti su tavolette di bambù una sola coppia viene custodita a corte si salvano soltanto i manoscritti con informazioni utili come per esempio testi di agricoltura o di medicina ma anche gli scritti di storia vanno a rogo la storia dice lì su è quella che facciamo noi a cosa serve scrivere per conservare informazioni alcune informazioni sono utili per il nostro grande progetto quelle che riguardano l'agricoltura la medicina quelle le terremo al sicuro nelle nostre mani per quanto riguarda la storia invece dico che la vera storia è quello che stiamo facendo ora ma alle frontiere i mongoli minacciano il nuovo ordine e invadono il nord del paese l'esercito dell'imperatore per la prima volta è impotente di fronte a questi guerrieri a cavallo da secoli i confini settentrionali della civilizzata Cina vengono devastati da tribù nomadi anche se le città di frontiera sono protette da mura difensive è facile aprire dei varchi finalmente questo problema sarà risolto la mano d'opera non manca e si può iniziare a dare il via al più grande progetto di ingegneria del mondo antico una barriera continua ma è inespugnabile per sigillare l'impero la grande muraglia cinese sono sulla grande muraglia in una zona di montagna lontano da Pechino da questo punto si ha una bella immagine di questa straordinaria costruzione che l'imperatore Shiwandi realizzò oltre 2000 anni fa ne esistevano già dei tronconi in precedenza quando gli stati indipendenti si difendevano per conto loro dalle invasioni ma con l'unificazione del paese Shiwandi costruì un'unica muraglia lunga ben 5000 km per avere un'idea di cosa significhi basta pensare che è la distanza che separa l'Europa dall'America l'altezza varia tra gli 8 e 10 metri e sopra corre praticamente una lunghissima strada in molti tratti larga ben 6 metri una larghezza che permetteva a due carri di incrociarsi infatti infatti questo non era soltanto un muro era una specie di caserma a forma di serpentone con i soldati continuamente appostati grazie a un sistema di torri di guardia in questo modo i difensori potevano muoversi rapidamente lungo tutta la muraglia e concentrarsi là dove gli invasori cercavano di superarla gli invasori erano i nomadi che abitavano le regioni del nord e che cercavano continuamente di razziare i ricchi territori delle pianure arrivavano a cavallo e portavano via beni animali donne e uomini da ridurre in schiavitù shiwandei per sterminarli inviò un esercito di 300.000 uomini ma non era facile stanare questi nomadi a cavallo in continuo movimento e per questo alla strategia dell'attacco unì quella della difesa costruendo questa grande murale per farlo fu necessario mobilitare un numero immenso di uomini oltre agli operai c'erano soldati schiavi prigionieri e chi si ribellava poteva pagare molto cara la sua disobbedienza con i lavori forzati a volte anche con un marchio a fuoco fu un lavoro massacrante che coinvolse nel momento di massimo sforzo circa un milione di individui su queste montagne bisognava portare pietre mattoni materiali da costruzione lungo ripidi sentieri in salita portando i pesi sulle spalle o con ceste sulla testa e a volte pietre pesanti una tonnellata grazie a tronchi usati come rubli e bisognava lavorare su ponteggi instabili appesi su precipizi il prezzo pagato in termini di morti per incidenti malattie o sfinimento è terribile decine di migliaia forse centinaia di migliaia di persone persero la vita alcuni sembra furono sepolti proprio dentro la muraglia durante la costruzione quindi i loro corpi sono rimasti per sempre inglobati in quest'opera gigantesca che per dimensioni analoga forse superiore a quella delle piramidi egizie sono stati compiuti degli studi per quanto riguarda le tecniche di costruzione da parte di archeologi e ingegneri ecco i risultati di queste ricerche la prima grande muraglia era costruita in terra locale e pietra nei lavori di restauro attuali si segue lo stesso procedimento di costruzione dell'epoca Cim la terra viene prelevata a circa 12 centimetri sotto la superficie per essere sicuri che si apriva di erbacce e radici viene battuta e ammassata in strati sovrapposti di 10 centimetri fino a raggiungere l'altezza necessaria alcune sezioni di questo muro hanno resistito per più di 2000 anni un'impresa incredibile se si pensa che la muraglia avanzava su terreni e pendenze diverse in Mongolia dove non c'era terra ma roccia sono stati edificati 90 chilometri in pietra secco anche in questo caso i restauri rispettano le tecniche originarie si preleva la roccia dal fianco della montagna e la si posiziona con il lato piatto rivolto all'esterno nelle intercapedini per rafforzare la struttura vengono immessi i frammenti di roccia più piccoli questa porzione di muraglia raggiungeva i 6 metri di altezza ma con le torri di avvistamento arrivava a 8 metri in 10 anni Shiwandi fa edificare 5000 chilometri di muraglia con una media di 41 chilometri al mese e un chilometro e mezzo al giorno si è calcolato che con gli odierni costi della manodopera ricostruire la prima grande muraglia costerebbe all'incirca 260 miliardi di dollari pari a 500 mila miliardi di vecchie lire nel corso dei secoli le varie dinastie che si susseguirono sul trono della Cina continuarono a perfezionare costruire e ricostruire la grande muraglia si calcola che nell'arco di 2000 anni tra aggiunte e rifacimenti furono costruiti addirittura 50 mila chilometri di muraglia abbastanza per fare il giro del mondo alcuni muri vennero duplicati altri triplicati le torri di guardia rafforzate con guarnigioni alle spalle piene di soldati tra le torri esisteva un sistema di comunicazione fatto di fuochi di notte e di fumi durante il giorno c'era persino un particolare codice che permetteva di segnalare il numero dei soldati dei nemici avvistati ma ogni sistema di difesa per quanto perfetto come si sa ai suoi punti deboli e fu proprio approfittando di una piccola spaccatura nel muro che Gengis Khan sembra fece infiltrare i suoi primi soldati a cavallo fu l'inizio di una grande azione di conquista che permise a questo nomade mongolo di diventare all'inizio del 200 il nuovo imperatore della Cina creando un impero che per dimensioni fu il più grande mai esistito sulla terra che andava dalle coste del pacifico fino alle porte di Vienna un impero che sarebbe molto piaciuto a Chi-Wan-D nel 220 avanti Cristo l'imperatore Chi-Shi-Wan-D parte per un viaggio di ispezione del suo nuovo impero una terra finalmente sicura e pacifica ma le richieste dell'imperatore crescono a dismisura rivolge l'attenzione al compimento di un altro suo grande sogno un luogo di sepoltura adeguato al primo divino sovrano dell'impero cinese anche per la costruzione della tomba molti morirono durante i lavori e sono state trovate le ossa che sono probabilmente i resti di alcuni degli operai infatti l'archeologo Duan-Cimbo ha scoperto ben 100 scheletri tutti in una fossa comune appartenenti a uomini tra 20 e 30 anni dall'analisi delle ossa è emerso che al momento della morte queste persone avevano tra i 20 e i 30 anni e che in maggior parte erano denutriti le ossa inoltre erano per lo più sparse e non abbiamo trovato su pellettili funebri e questo mi fa pensare che si tratti degli operai che hanno costruito il mausoleo e c'è di più molti crani presentano delle fratture ciò significa che non sono morti di morte naturale e che probabilmente sono stati giustiziati da 2000 anni la parte che risulta visibile della tomba di Chi She Wan Di è una collina alberata alta quanto la grande piramide di Giza ma cosa c'è all'interno? l'unico documento esistente che lo racconta risale a 100 anni dopo la morte dell'imperatore ecco qual è la descrizione che ne fa nella volta è rappresentato un cielo stellato con gemme incastonate nel soffitto il pavimento dice ancora il documento riproduce una mappa della Cina e i fiumi sono riempiti di mercurio liquido c'è una macchina che li fa scorrere una specie di clessidra ad acqua da quanto si è capito che finché funzionava garantiva il movimento una tomba fatta di bronzo e piena di mercurio migliaia di tonnellate di mercurio gli archeologi cercano oggi di ricostruire con vari strumenti anche con dei radar di profondità la struttura della tomba sotterranea ecco come dovrebbero presentarsi le mura esterne poi la struttura interna una vasta piramide rovesciata e divisa in due lo spazio è grande quanto un campo di calcio il tetto della piramide al momento della costruzione era esposto all'esterno poi fu ricoperto dalla terra questo tumulo è stato esaminato dagli scienziati per dieci anni e sono stati compiuti ben 4000 carotaggi del terreno ricercando le tracce di eventuali vapori risaliti dal sottosuolo per capire se potrebbe essere vera la descrizione che nella tomba si trovano fiumi di mercurio non sarebbe difficile entrare nella tomba basterebbe scavare pochi metri di terra ma nessuno vuole per ora penetrare all'interno e non è soltanto per rispetto che si deve al fondatore della Cina ma perché c'è un grosso problema tecnico non si sa quali danni potrebbe provocare l'aria entrando di colpo in un ambiente chiuso da oltre 2000 anni e nessuno vuole rischiare di compromettere un ritrovamento che potrebbe essere uno dei più sensazionali della storia dell'archeologia la tomba dell'imperatore infatti potrebbe nascondere molte altre cose visto l'immenso apparato che la circonda gli archeologi però non vogliono correre rischi e non cominceranno a scavare fin quando non avranno tutte le informazioni e i mezzi necessari per evitare qualunque danno a questo straordinario sepolcro al mercurio il mercurio questo strano metallo liquido che si scompone e si ricompone formando aggregazioni e palline aveva affascinato gli antichi che lo avevano definito argento vivo sembrava una materia magica e proprio per questo ha avuto un ruolo importante ma anche tragico come vedremo nella vita dell'imperatore sciwandi infatti è ossessionato dall'idea della morte ha vinto tutto ha ottenuto tutto quello che voleva dalla vita ma sa che non può vincere la morte e allora si rivolge ai medici di corte perché gli suggeriscano dei rimedi che possono almeno allungargli la vita la prima ricetta che gli consigliano è molto gradevole il sesso sesso con più partner non è un problema perché l'imperatore dispone di un vasto aree e quindi è un farmaco molto abbondante a portata di mano per così dire ma sciwandi si lascia sedurre dalla ricetta di un nuovo medico che gli prescrive una terapia a base di mercurio ce l'hai? si maesta funzionerà? mio sire tutti gli alchinisti del mondo affermano che il mercurio è altamente indicato per aumentare la longevità dell'uomo il corpo umano non è in grado di assorbire il mercurio puro perciò esso veniva mescolato con composti facilmente digeribili forse l'imperatore assumeva proprio uno di questi composti come dieta c'è di meglio professor padua buonasera lei è neurologo noi non sappiamo esattamente come siano andate le cose ma in quale maniera il mercurio può essere assorbito o ingerito essenzialmente per via inalatoria quando il mercurio è nella sua forma essenziale di metallo essenziale cioè l'argento vivo l'argento vivo esattamente quello che si trova nel termometri perché tra l'altro è stato eliminato recentemente proprio per i rischi di intossicazione quindi inalando questo mercurio che ha dei vapori ci si può intossicare ma non ingerendolo lei diceva esattamente perché in realtà attraverso il sistema gastrointestinale l'assorbimento è assolutamente minimo quindi questo è un modo per assorbire in questa forma abbiamo visto che prendiamo queste specie di caramelle qui l'imperatore quindi c'è anche un altro modo sì potrebbe essere un composto di sale inorganico e quindi in quel caso l'assorbimento attraverso il tubo digerente è molto elevato dunque questo mercurio finisce poi soprattutto a danneggiare le cellule nervose in particolare quelle del cervello esattamente soprattutto delle zone posteriori cioè il cervelletto e la corteccia visiva con quali conseguenze le conseguenze sono quelle del malfunzionamento di queste parti quindi tremori difficoltà nei movimenti disturbi della visione e quando poi l'intossicazione è diffusa a livello cerebrale si hanno problemi di umore depressione collera insomma tutto quel corteo di sintomi che sono correlati proprio quindi uno squilibrio comportamentale che poi con queste collere per un uomo che aveva quel potere poteva portare a conseguenze preoccupanti esattamente sappiamo che l'imperatore è morto in età relativamente precoce intorno ai 50 anni può essere dovuta questa sua morte all'intossicazione da mercurio? dire di sì è molto probabile che un'intossicazione estremamente prolungata come quella che si ipotizza possa aver diciamo coinvolto anche le vie respiratorie il tubo digerente con gravi danni che possono anche portare quindi un avvelenamento generale dell'organismo esattamente grazie professore di niente a un certo punto all'imperatore Shiwandi la longevità non basta più vuole l'immortalità Xufu si può sapere da dove viene questa immortalità dove posso trovarla perché a me al primo divino supremo imperatore di tutta la Cina non è concessa e se non ce l'ho io chi ce l'ha Sire c'è che parla di un posto dove vivono degli immortali un gruppo di isole chiamate Peng Lai dove dimorano gli immortali dalla notte dei tempi si dice che abbiano due tipi di elisir uno per frenare la fuga dell'anima sul punto di morte e l'altro portameli maestà tu vai lì prendi gli elisir e li riporti qui e poi li somministrerai personalmente a me maestà ma dove siano queste isole nessuno lo sa e anche se lo sapessi non avrai i mezzi per arrivarci ma avrai tutto ciò che ti serve sì maestà questa è una missione imperiale e le mie missioni non possono fallire no maestà credi in me? sì maestà vai un piccolo esercito accompagnerà Xufu nel suo viaggio alla ricerca dell'immortalità migliaia di giovani uomini e donne vengono reclutate per aiutarlo a trovare le isole di Penglai nel frattempo l'imperatore si allontana sempre più dalla realtà e assumere il mercurio di certo non lo aiuta ne ha aumentato la dose negli ultimi cinque anni perché la sua ossessione per l'immortalità è ormai incontrollabile gli elisir non arrivano e il mercurio più che prolungargli la vita sembra provocare l'effetto opposto vive ormai immerso nelle sue ossessioni a paura della morte a paura dei morti anche paura dei complotti quando deve muoversi fuori dalla capitale gira con una scorta di 60.000 uomini nessuno riesce a vederlo viaggia in una carrozza chiusa altre carrozze simili percorrono strade diverse nessuno sa in quale si trovi l'imperatore è stato trovato un modello in bronzo della carrozza nei pressi della tomba è una riproduzione dell'originale con filigrana d'oro non poteva essere aperta dall'esterno e aveva solo una piccola finestra Wang Di vive ormai in un mondo di ombre i personaggi intorno a lui sembrano quasi mossi da forze superiori oscure che sfuggono alla sua capacità di dominarle in ogni situazione in ogni gesto cerca di capire di individuare dei messaggi divini la sua mente ormai sta vacillando i suoi pensieri appaiono e svaniscono un po' come in un teatro d'ombre quei teatri di ombre che molti secoli dopo continueranno a parlare di lui inserendo il suo personaggio nel repertorio e qui a Xiang non molto lontano dalla sua tomba degli abilissimi artisti raccontano fanno rivivere la sua storia utilizzando questa tecnica molto antica il teatro cinese d'ombre è un'invenzione che risale a oltre duemila anni fa era la televisione del tempo qui vediamo in azione sei artisti a volte sono anche dodici e i gesti devono essere veloci e precisi perché è un sosseguirsi di movimenti che debbano poi integrarsi in sincrono un po' come una orologeria la scena che qui vediamo è quella dell'attentato all'imperatore quando dei falsi diplomatici fingono di portare dei doni ma in realtà sono dei sicari venuti per assassinarlo le marionette che vengono utilizzate per queste rappresentazioni sono dei piccoli capolavori e vengono realizzate con una tecnica molto antica la cosa curiosa è che la pelle che serve per sagomare i personaggi è molto speciale è la parte intermedia della pelle del bue che viene raschiata e resa sottilissima addirittura trasparente in modo che i colori possano passare per dare rilievo alla luce ogni marionetta è come un finissimo ricamo lavorato con infinita pazienza e con un gran numero di strumenti è un'arte che si tramanda da una generazione all'altra non esistono scuole gli specialisti sono pochissimi e oggi sono protetti dallo stato in un mondo in un mondo in cui il grande schermo del cinema e il piccolo schermo della televisione dominano in contrastati il teatro d'ombra e quindi non è completamente scomparso sul suo schermo molto particolare continuano a essere rappresentate quelle leggende a volte molto complicate e quei personaggi che come fantasmi riemergono dal passato per raccontare la loro storia e continuare a vivere attraverso i tempi dalla spedizione per cercare l'elisir dell'immortalità nessuna notizia le isole non si trovano Chi Shewandi intraprende un altro viaggio imperiale ma molte cose sono cambiate dove una volta sorgeva una nazione potente e prosperosa oggi non rimane quasi nulla la terra non è più stata coltivata a causa dei grandi progetti dell'imperatore la carestia incombe e nessuno può porvi rimedio il sistema legalista prende ordini solo dall'alto quando l'imperatore era ancora sano di mente l'isù si prodigava per la realizzazione di ogni suo sogno e ora che i sogni sono degenerati nella pazzia l'isù non può fare altro che continuare ad assecondare il suo imperatore l'isù l'isù ho raccolto una stella il sovrano ha un nuovo diversivo un meteorite caduto sulla terra in una provincia lontana per lui è un segno che i cieli hanno risposto alla sua preghiera sai cosa significa no maestà questo è un messaggio divino non ci sarà mai nessun altro dopo l'imperatore maestà non penserai che io morirò non è vero secondo i documenti storici l'imperatore raggiunge l'isola di Zifu a largo della costa cinese nel decimo mese del 210 avanti Cristo avanzare il grande imperatore è ormai praticamente estraneo alla realtà bene mettetemi giù ecco il governatore divino il re guerriero di Qin non c'è più al suo posto invece c'è un pazzo che pretende di essere accontentato in ogni suo capriccio eccomi eccomi qui vengo a prendervi arrivo io sono il primo sovrano supremo dell'intera grande Cina l'imperatore Qin Shi Huangdi al ritorno dalla costa l'imperatore si ammala e il carro accelera verso la capitale ma la scorta imperiale non arriva a destinazione la ricerca dell'immortalità è ormai riconclusa maestà 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 lo stato si ritrova senza timoniere questo è il momento che Lissu attendeva entra in azione il piano prestabilito il piano è quello di evitare che salga al trono il figlio maggiore troppo prepotente arrogante e che sia invece il figlio minore a diventare il nuovo sovrano è l'unica soluzione per evitare che al vertice dell'impero venga a trovarsi un uomo non adatto Lissu e il suo fedele segretario sanno che l'imperatore ha scritto una lettera al figlio ma non sanno se l'abbia già spedita la lettera è ancora lì basta cambiare il nome dell'erede e il gioco è fatto ed è così che viene modificata la naturale successione comincia così il viaggio di ritorno e nessuno deve ancora sapere che l'imperatore è morto ma dentro la carrozza la salma comincia a emanare cattivo odore e allora per confondere le idee viene preceduta da un'altra carrozza che contiene pesce marcio nella capitale si preparano i fastosi funerali centinaia di operai scendono nella tomba per sistemare gli oggetti insieme a decine di concubine che accompagnano il feretro le statue verranno poi sistemate attorno alla collina la porta della tomba di bronzo viene sprangata con una spada ma qualcosa all'esterno sta accadendo gli operai corrono verso l'ingresso ma ormai sono chiusi dentro a centinaia come anche gli architetti custodiranno per sempre il segreto della tomba dell'imperatore tutto questo corrisponde alla verità beh non si potrà sapere soltanto quando la tomba sarà aperta c'è però un fatto che sembra confermare l'attendibilità del racconto che era stato fatto cento anni dopo la morte dell'imperatore ed è che le analisi che sono state compiute sui 4000 campioni prelevati nel terreno sopra il sepolcro rivelano che ci sono tracce di mercurio e che esse si trovano proprio in corrispondenza della tomba questo sembra confermare che effettivamente potrebbero esservi quei fiumi di mercurio descritti dal racconto per il resto occorrerà aspettare ma dopo la morte dell'imperatore cosa succede? beh una serie di omicidi incrociati il giovane erede non sarà grato a lì su di averlo fatto salire al trono a un certo punto lo farà imprigionare e uccidere ma anche lui sarà a sua volta ucciso e salirà al trono un nipote che ucciderà a sua volta l'uccisore la dinastia rapidamente si estinguerà di fronte al dilagare di una rivolta che si estenderà sempre più nel 206 avanti Cristo i rivoltosi entrano nella capitale e distruggono l'esercito di terracotta impadronendosi delle armi perfettamente funzionanti migliaia di spade alabarte balestre che serviranno a completare la rivoluzione una rivoluzione che porterà successivamente al potere una nuova dinastia la dinastia Han i soldati di terracotta ridotti in pezzi conservano ancora oggi le tracce di quell'incendio ma sono loro malgrado questa sconfitta virtuale a rendere oggi l'imperatore Wan Di immortale e intanto l'imperatore blindato qui all'interno della sua collina dentro il suo straordinario mausoleo tra gemme ori e forse fiumi di mercurio da duemila anni continua ad attendere grazie per averci seguito buona giornata